adesso siamo sempre sulla 1 ma poi per la sepolti diamo sulla 2 ok allora 1 1 2 6 questa è rossa tempestata anche questa tempestata solo perché c'è sti cacchio di tutti addio cosa c'è lì davanti tutto giallo un ponte per rallentare il precipito guido qua com'è qua c'ho un doppietto ma due qua a destra rosso qui un attimo perdere l'anteriore ma un attimo allora variante 7 variante 2 continuiamo con la 2 continuiamo con la 2 poi le varianti facciamo dopo ovvio che c'è qualcuno dietro vista 2 di qua via 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 Grazie a tutti.